Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft Per la serie Cosa succede? Era da tanto che non portavamo sta serie Perché presi da tutte le altre, dal server, da Minecraft Italy, la nuova stagione Non avevamo più fatto episodi, oggi ne ho preparato uno che secondo me è figo un botto Sono tutti easter egg che utilizzano le name tag Quindi ragazzuoli ci siamo, preparatevi Ci sono easter egg per le name, ma ce ne sono veramente tanti Uno in particolare l'avevamo visto in Un Cosa Succede Svecchio Adesso li faccio vedere tutti, ovviamente citerò anche quello per completezza Perché ovviamente bisogna citare, facciamo un video su questa cosa, su questi easter egg qua E li citerò tutti La prima cosa da fare effettivamente è prendere, piazzare una anvil e prenderci effettivamente diverse name tag Perché comunque gli easter egg sono parecchi Allora iniziamo, ce ne sono due abbastanza semplici Prendiamo il primo che sarebbe Groom Groom, eccolo qua The first one con due M finali E poi ne abbiamo un altro Che sarebbe Dinnerbone Dinnerbone Eccoli qua E li andiamo a vedere subito entrambi Hanno la stessa funzione, groom Wahoo Dinnerbone, stessa cosa Vedete non cambia niente Vedete se lo faccio vedere su un altro asino Bam E funziona su tutti i tipi di animali Boom Dinnerbone Groom Wahoo Che figata E ti cappotta praticamente gli animali Ok è particolare secondo me vedere degli animali cappottati è simpatico, è strano quello più famoso che è da però esiste da tanto è figo, è ovviamente molto figo ve lo faccio vedere Jeb underscore ok questa la conoscete la famosissima pecora Jeb boom boom cambiano colore, raga cambiano colore che gregge che sarebbe nella prima stagione di minecraftita provai a fare un gregge del genere ma non c'ero riuscito capite? capite che figata? cioè è un gregge x, x come l'iphone ok, no non è un placement, tranquilli va bene, andiamo avanti a questo punto perché effettivamente ce ne sono diversi altri andiamo a vedere il quarto tac, tac mettiamo toast che fa toast? ve lo faccio vedere che fa toast mi serve però un uovo perché toast sarà diciamo test, modo di utilizzare toast sarà un ma è questa toast vedete non succede niente bensì se noi prendiamo l'uovo di coniglio di rabbit dove stai sulla R vediamolo un po' vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' dove sta il nostro bellissimo rabbit eccolo qua lo prendiamo mettiamo qua sotto spawniamo un paio di rabbit tac 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 ok vedete hanno così cambieranno skin e avranno tutti questa skin che è particolare non potete mai trovare un coniglio con questa skin loro hanno questa skin easy ok? tutti i conigli a cui mettete questa targhetta avranno questa cosa se gli mettete ovviamente groom si gireranno e se gli mettete jeb non succederà nulla c'è anche un modo per perdere le name tag esatto se rinominate un silverfish che va in un blocco questo perderà la name tag se rinominate un villager è possibile rinominare villager assolutamente sì allora in due modi è possibile rinominare villager adesso andiamo a prendere le uova dei villager e andiamo a vedere come rinominare villager per esempio o fate spawnare un villager piccolo e lo rinominate groom così invece con shift semplicemente cazzo non era fattibile una volta bello figata ok e loro perderanno no ecco perché no è 1.12 prima non succedeva anche se premishift ti apriva la cosa e bisognava servire ad un altro giocatore che interagisse con i villager per rinominarli adesso funziona tranquillo ma se i villager cioè vengono che time set 0 assaliti da degli zombie loro perderanno la name tag zombie no zombie earth zombie normale mi serve guardate ho sbagliato guarda vabbè cavolo no dammi lord dammi lord dammi lord time set night time set perché non so scrivere set night ok guardate eh guarda come scappano sono tostissimi oh porca miseria fenomenali ma guardate è incredibile ok cioè non riusciamo a prenderlo è fantastico ok adesso l'hanno bloccato oh ma guarda è ronaldo di minecraft cioè ok vedete e no rimane la name tag c'è la possibilità che loro perdano la name tag ma non proprio allora la wiki dice le cazzate perché c'è scritto che c'è la possibilità che loro perdano la name tag guardate che orda di zombie che abbiamo creato questo è il villager rinominato ok no va bene perfetto abbiamo trovato la solution ma guardate scappa incredibile adesso proviamo l'ultima di cosa no perché effettivamente ah questa ci sto citando la wiki di minecraft il che è sorprendente mushroom mushroom tac gli dai una mega jab prendi delle cesoie e la tosi perché si possono tosare queste cose vediamo no ok la name tag rimane assolutamente cioè dico cagate allora no va veramente scusate cioè questi sono tre mob rinominati possono perdere il loro nome possono perdere ok non è detto che succeda però possono perdere vabbè ci abbiamo provato tipo 64 volte non è venuto con tutti e tre i modi diversi però comunque c'è scritto possono perdere effettivamente ci può stare magari mettiamo qualcun'altra lei rinominiamo tutte e tre groom groom e groom non so se questi sono nomi particolari ok questo è andato questo pure no effettivamente probabilmente sarà stato un aggiornamento che hanno messo che non in cui non perdono più la name tag è figo il fatto che non perdano la name tag a sto punto vi rifaccio vedere quello del vindicator prendiamo una name tag lo chiamiamo john come cavolo si chiamava johnny sembra johnny prendiamo l'uovo di vindicator e questo adesso dovrebbe ammassacrar di botte tutti vindicator eccolo qua vediamo un po' tac dove sei johnny no nope non fai non uccidi nessuno uccidi mob cioè lui dovrebbe prendere e ammazzare tutti i mob esistenti sulla faccia della terra pacifici e non però vabbè magari prendiamo un villager sponiamo un villager no non è johnny si ok ci ha messo un po' di tempo ma è partito incazzato nero gliel'ha messa anche nel gliel'ha messa anche il trattore eccolo è partito con l'accetta incazzato nero ok si johnny e lui si arrabbierà col mondo intero e vorrà uccidere chiunque sulla faccia della terra non lo so è una persona che 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 malsana cattiva e chiunque gli passi intorno lui proverà ad ucciderla a killarla male va bene ora ne abbiamo tutti penso i cosi le ho utilizzati tutti gli easter egg dinner mon groom si effettivamente si ne ho messi tutti questi erano tutti gli easter egg che si nascondono all'interno delle name tag le targhette possiamo rinominare credo facendo una cosa del genere where are you where are you eccolo qua se io voglio fare una cosa figa tipo name tag scrivo tac name name tag poi la rimetto qui e li chiamo name tag posso chiamare qualcuno name tag giusto posso chiamarti name tag però se lo faccio con una name tag che non è ancora stata chiamata non te la posso mettere vedete questa name tag non te la fa mettere questa chiamata name tag si vabbè questa è una cazzata così poi ovviamente puoi tranquillamente esagerare come tutte le cose noi esageriamo sempre e andiamo a prendere un wither boss for example no wither boss parliamo un wither boss facciamo una roba del genere e cappottiamo un wither boss se non è possibile farlo scusate chi me lo viata nessuno posso tranquillamente fare la roba del genere perché perché adesso non ti crei perché non spawni qualcosa ti dà fastidio ok right jeb ti diamo dinner buon adesso tu esplodi fai il casino che ti pare poi io avrò il piacere di girarti dai se 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 quanto sei british adesso quanto sei british girato quanto sei british ok molto british secondo noi diciamo un dietro che fa un casino boia molto british il wither girato the last one the last one vorrei comunque sottolineare il fatto che possiamo farlo anche con l'ender dragon poi o no chi vuole è libero di crederci non venire da me che fai casino poi mi tocca abbassare l'audio le echo and iwander easy ci facciamo un portalino portalino easy peasy lemon squeezy sarebbe facile come schiacciare un limone ma tanto lo sapevate già tac 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 mettiamo questo allora sei stronzo wither però mi vieni a dare noia ok bim entriamo si spawna l'ender dragon solo tac 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 io prendo la mia il mio coso dinner bon appena tu decidi che poi cambia anche la sopra attenzione vediamo vediamo oh eeeh me devi dar retta ender dragon io non c'ho tanto tempo mi dispiace non è che posso stare ai comodi tuoi ender dragon è chiaro il concetto si non me l'ha fatto rinominare oddio no no non ci sto credendo non ci sto dentro no non ci sto dentro non ci sto dentro non lo fa non lo fa non lo fa no 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 vabbè ok ti fotto io vabbè e niente raga non si è potuto fare non ho potuto rinominare l'ender dragon mi dispiace però però una promessa che in uno dei prossimi video vi crea un ender dragon che è cappottato tanto si lo so fa cioè ci proviamo a farlo penso sia facile farlo con i comandi vabbè ragazzoli per questo video penso possa essere tutto vi ringrazio tantissimo la visione ricordo di condividere il video per farmi coscire le persone passate in tutti i link in descrizione facebook instagram e tele mi raccomando un bel mi piace un bel mi piace noi ci vediamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi